Il giudice ha convalidato i fermi dei due cognati in relazione all'omicidio di Graziano Rotondo avvenuto in uno scantinato delle case parcheggio a Rione Tamburi. Secondo la Wilm servirà a governare la storica fase di transizione per quel che riguarda ArcelorMittal con strumenti straordinari e che passano per la condivisione sociale in assenza dei quali si determineranno inevitabili fortissime tensioni. Secondo sit-in di protesta negli ultimi due mesi dei lavoratori del servizio trasporto disabili della ditta che ha l'apparto con la ASL di Taranto, sindacati denunciano di tardi nelle retribuzioni. Buon pomeriggio, apriamo questa edizione di Taranto e provincia del nostro telegiornale con una notizia di cronaca nera. Una triste vicenda viene a galla dopo le indagini della squadra mobile che hanno arrestato un trentunene tarantino ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata nei confronti della figlia minore. Le indagini sono partite dalla denuncia dell'ex moglie dell'uomo che aveva notato degli strani discorsi della figlioletta di appena sei anni e hanno consentito al personale specializzato della squadra mobile di accertare che l'uomo avrebbe commesso in più circostanze in un arco temporale di molti mesi a partire dal 2018 atti sessuali in danno della figlioletta minore. Le delicatissime indagini del personale specializzato della squadra mobile di Taranto condotte con l'ausilio di uno psicologo hanno permesso attraverso l'ascolto protetto delle vittime di accertare negli ultimi due anni i numerosi abusi sessuali del trentunenne compiuti in casa di parenti approfittando della loro assenza. Adesso parliamo di cronaca sindacale. Questa mattina c'è stato un sit-in di protesta da parte dei sindacati che sostengono i lavoratori impegnati con la ditta di trasporto disabili che ha l'appalto con la ASL Ionica. Sono tornati a protestare dinanzi alla sede della ASL di Taranto i lavoratori della Tundo SPA, la società che si occupa del trasporto disabili per conto dell'azienda sanitaria locale Ionica che dall'avvio dell'appalto avrebbero accumulato ritardi nell'erogazione degli stipendi. Un Natale che si pronuncia difficile per circa 70 dipendenti. Questi lavoratori erogano servizi essenziali a cittadini fragili quali sono i cittadini diversamente abili. Hanno sempre garantito il servizio però purtroppo le retribuzioni non arrivano. Noi chiediamo a viva forza l'escezione del contratto da parte dell'ASL in modo che possa essere affidata a un'azienda che paghi veramente, che abbia un comportamento serio, dignitoso nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori. La tredicesima mensilità è un'incognita, tutto ciò che era stato concordato è stato totalmente disatteso. La situazione è diventata paradossale, ormai non possiamo più fidarci di questa azienda considerando che è un'incognita anche dal punto di vista della stabilità economica perché i lavoratori sono privi di ogni certezza. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha convalidato i fermi di Vincenzo Balzo di 40 anni e di suo cognato Carmelo Nigro di 32 in relazione all'omicidio è avvenuto la scorsa settimana al quartiere Tamburi di Taranto in via Machiavelli in cui fu ucciso Graziano Rotondo, 39 anni di Palagiano, secondo l'ipotesi investigativa Rotondo sarebbe stato colpito con un martello e un coltello durante la collutazione e poi ammazzato con un colpo di pistola al torace. Prima di essere aggredito il 39enne era riuscito a chiamare al telefono suo fratello dicendogli di essere inseguito da tre persone che volevano ucciderlo. Andiamo avanti adesso parlando dell'emergenza Covid, sei decessi per il secondo giorno consecutivo è il dato che caratterizza gli ospedali tarantini secondo i dati aggiornati dall'ASL locale. Un lieve aumento, vediamo. Un trend tristamente confermato, anche nelle ultime 24 ore si sono registrati sei decessi per Covid negli ospedali tarantini come nella giornata precedente. I dati aggiornati dall'ASL a Taranto certificano anche un aumento dei ricoverati, più 5 nei principali in osocomi della provincia. Alle 16 del 21 dicembre l'ospedale San Giuseppe Moscati ospitava 55 pazienti affetti da Covid, 25 in malattie infettive, 23 in pneumologia, 7 in rianimazione. L'ospedale Giannuzzi di Manduria ospita 46 pazienti affetti da coronavirus, 41 in medicina, 5 in rianimazione. L'ospedale San Più di Castellaneta ospita 51 pazienti affetti dalla sindrome pandemica. L'ospedale San Marco di Grottaglia ospita 36 pazienti affetti da coronavirus presso il reparto di medicina. Nella presidio ospedaliero Valeditria di Martina Franca ci sono 17 pazienti ricoverati nei giorni precedenti per altre patologie e risultati positivi alla Covid. La casa di cura Santa Rita ospita 13 pazienti affetti da Covid-19. Il centro ospedaliero militare di Taranto ne ospita 6. Il presidio Covid post-acuzze di Mottola ospita 15 pazienti post-Covid. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 6 decessi, così suddivisi 4 all'ospedale Moscati, 1 a Grottaglie e 1 a Manduria. Voltiamo pagina a tradizionale messa per gli auguri di Natale della CISL con l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro. La pandemia ha imposto una rappresentanza ristretta ma non ha fermato l'ormai consolidata tradizione dello scambio di auguri dell'esecutivo della CISL Taranto Brindisi con la messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto, nella cappella di Santa Rita, verso la chiesa di Sant'Antonio in via Bruno a Taranto. Non per questo però un momento meno intenso, Solazzo nel suo discorso introduttivo ha parlato dell'importanza della coesione sociale e di ritrovare il gusto della partecipazione, della solidarietà, della corresponsabilità. Il tema del lavoro ancora di più quest'anno si pone all'attenzione, in particolar modo ovviamente nel nostro territorio ed è per questo che noi continuiamo a dire, parafrasando un attimo anche le parole del Papa, non esiste soltanto una crisi ambientale da una parte e una crisi sociale dall'altra, esiste un'unica crisi sociale e ambientale e lì bisogna intervenire. L'appuntamento è consueto, l'incontro è sempre nella vicinanza del Natale e da sempre c'è una sintonia con l'idealità che sostiene il cammino e il lavoro della CISL e quest'anno in particolare, quest'anno il momento che celebriamo qui è proprio un momento in cui approfondiamo la fede, perché l'origine del cambiamento viene da qualcosa che è prima della politica e prima di ogni altra organizzazione, c'è un prima che è l'amore di Dio. E adesso la vertenza, Arcelor Mittal servirà a governare la storica fase di transizione con strumenti straordinari e che passino per la condivisione sociale in assenza dei quali si determineranno inevitabili, fortissime tensioni, quanto scrive in merito alla vicenda ex Silva il Consiglio territoriale della Wilma di Taranto che si è riunito in videoconferenza ampia e attente ad esamina, è detto nel documento finale, è stata fatta sui temi legati alla salvaguardia della salute e dell'ambiente attraverso il riammodernamento impiantistico. Una panchina dei giardini al quartiere Tamburi è stata completamente distrutta da ignoti vandali, un gesto che offende l'intero quartiere come ha sottolineato l'assessore ai lavori pubblici Francesca Vigiano. Un affronto al decoro del quartiere all'intera cittadinanza è il gesto che è stato perpetrato da ignoti che hanno letteralmente distrutto una panchina dei giardini curci nel quartiere Tamburi. Un gesto vile duramente stigmatizzato dall'assessore ai lavori pubblici Francesca Vigiano che lancia ancora una volta un appello per il rispetto dei beni pubblici. Siamo al quartiere Tamburi ai giardini curci e come potete vedere alle mie spalle qualcuno ha pensato di vandalizzare quella che è una panchina che in condizioni di normalità e quindi fuori dalla pandemia viene utilizzata dai nostri con cittadini, adulti, anziani, persone con famiglie con i bambini. Beh, qualcuno ha deciso che questo non doveva più accadere. Ora senza voler fare la morale a nessuno non è più pensabile che una città che aspira alla normalità e anche oltre come quella di Taranto debba trovarsi ogni giorno a dover combattere con gesti del genere senza poter utilizzare le squadre del decoro urbano per andare a piantumare, per effettuare dei lavori di decoro, non di ripristino, di vandalizzazioni. Noi faremo il nostro dovere ma non è più pensabile che non si considerino i beni comuni come beni di ciascuno di noi. È come se fosse casa mia e casa di chi mi guarda. E da Rione Tamburi ci trasferiamo nel cuore della città vecchia in piazza Duomo dove non vedremo più auto parcheggiate. C'è stato anche un sopralluogo del primo cittadino. Sentiamo. Carissimi siamo nella nostra amata piazza Duomo di fronte a San Catallo la basilica più antica di Puglia e per prenderci cura di questi luoghi oltre ai tanti cantieri che partiranno presso in città vecchia anche in questo luogo come vedete abbiamo sgombrato dopo tempo in memore questa piazza dal traffico per renderla fruibile per i cittadini specie per i più giovani e così continueremo, stiamo già facendo in tutta la città i monopatti, le piste ciclabili, il bike sharing, all'anno nuovo arrivano 24 nuovi grandi bus ibridi, insomma sta cambiando la mobilità e la connettività di questa città. Tra le altre cose come sapete stiamo pedonalizzando nuove aree della città, anche l'ultimo tratto di via d'Aquino e così continueremo sempre di più perché il centro storico tra la città vecchia e il borgo possano avere una luce nuova nei prossimi anni insieme a tutti i cantieri che andremo a consegnare. Noi siamo molto contenti perché sarà tutta un'altra Taranto quando ci saremo messi alle spalle i giorni difficili e fintanto abituiamoci a cambiare un po' i nostri stili di vita perché questa mobilità migliorerà la qualità delle nostre giornate. Il mancato pagamento da parte di Arcelor Mittal nei confronti delle aziende dell'appalto sta creando problemi. L'USB di Taranto ha deciso di portare la questione all'attenzione delle autorità nazionali e locali. Sono molte infatti le aziende che non possono pagare la mensilità di novembre, tantomeno la tredicesima. Dal prossimo anno 50 milioni di euro serviranno ad irrobustire la retribuzione accessoria del personale civile della difesa. Il coordinatore organizzativo del PD di Taranto, Lino De Guido, plaude al risultato ottenuto con l'approvazione in commissione bilancio del relativo emendamento. La distanza dei suoni per un Natale in musica, il nuovo videoclip della Mama Orchestra con la collaborazione del maestro Peppe Vessicchio, un cast tecnico e artistico diretto da regista Davide Caraccelo. Il videoclip sarà trasmesso in prima visione sul canale YouTube Mama Orchestra giovedì 24 dicembre alle 12. L'associazione pensionati Cia Puglia Area Due Mari ha risposto presente alla chiamata della solidarietà lanciata da un maestro presepista di Castellaneta. L'idea dell'anonimo artista storico socio della Confederazione Agricoltori di mettere simbolicamente all'asta una sua realizzazione è stata subito raccolta e sposata dal gruppo di pensionati della delegazione di Castellaneta che con una simbolica offerta di 300 euro porteranno il presepe nella loro nuova sede di prossima inaugurazione. Domani a Taranto la storia più bella del mondo con il bibliobus di base qua. Dinanzi alla concattedrale una narrazione natalizia di e con Giovanni Guarino. I cittadini potranno visitare il bibliobus di Taranto. Tutto avrà inizio alle 16.30. Anche a Taranto tra pochi giorni si potranno noleggiare le biciclette con il sistema del bike sharing. Il primo cantiere è stato avviato all'esterno della centralissima Villa Peripato. Parte a Taranto la rete della bike sharing. Sono infatti partiti i primi cantieri per la realizzazione della rete di ciclostazioni voluta dalla comune di Taranto per potenziare la mobilità sostenibile in città. Il progetto realizzato utilizzando le risorse intercettate grazie ad un bando del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali prevede la realizzazione di 5 ciclostazioni in prossimità di altrettanti snodi cittadini. L'assessore all'ambiente Paolo Castronovi ha effettuato un sopralluogo al cantiere nei pressi della Villa Peripato dove terminato l'intervento sui collegamenti elettrici sarà installata la struttura che ospiterà 10 biciclette tra quelle a pedalata assistita e muscolari che potranno essere noleggiate dai cittadini anche in abbonamento. Via Mignogna, ingresso Villa Peripato. Quello che vedete alle mie spalle è un cantiere che si chiuderà tra qualche ora che consentirà l'installazione della prima di 5 postazioni di bike sharing. Con queste postazioni in cui ci saranno per ciascuna postazione 10 biciclette sia a pedalata assistita che muscolari sarà possibile noleggiare la bicicletta attraverso l'utilizzo di un'app. È un bando finanziato dal Ministero dell'Interno che il Comune di Paranto ha recepito e sta realizzando con queste installazioni. Nei prossimi giorni saremo in grado anche di vedere le biciclette montate e di poterle iniziare a utilizzare. Questo nell'ottica della conversione ecosostenibile della nostra città. Ci trasferiamo adesso in provincia a Grottaglie per parlare di cronaca politico-amministrativa, tavoli e coalizioni politiche in vista delle prossime elezioni a Grottaglie, ma il Partito Democratico è ancora nel limbo, come ci spiega Valentina Fanigliulo. In un valzer a suon di comunicati stampa si cominciano a definire le coalizioni politiche in vista delle amministrative 2021 nella città di Grottaglie. Nel limbo ancora il PD. Secondo il Partito Democratico i ripetuti appelli lanciati dal neocostituito laboratorio di centro-sinistra nella città delle ceramiche sarebbero un tentativo di far aderire ad un tavolo precostituito altre forze politiche sempre di centro-sinistra, ma non una reale apertura a discutere su contenuti e metodi che possano condurre alla costituzione di quella grande coalizione più volte ricercata. Ripetono ancora una volta che le primarie di coalizione sono la condizione necessaria per iniziare la discussione, per la costruzione del nuovo progetto politico, ma ad oggi le risposte ufficiali e ufficiose sarebbero di chiusura totale o comunque un continuo targiversare. Le primarie dunque, o meglio la mancanza delle stesse, il motivo fondamentale che terrebbe il PD ancora nel limbo. Chiudiamo così questa edizione dedicata a Taranto e provincia del nostro telegiornale, tra poco il notiziario di Brindisi. Singolare forma di protesta di un'associazione di ristoratori di Brindisi hanno realizzato un calendario in cui sono fotografati in mutande. Controllo del territorio da parte della Guardia di Finanza che è pronta a dare il suo contributo alla sicurezza anche in questi giorni dedicati alle festività natalizie. Ruba uno smartphone dal bancone di un bar, cliente ladro identificato e denunciato grazie alle telecamere. Il nostro telegiornale di Brindisi si apre con la cronaca, lo dicevamo nei titoli. Ruba uno smartphone dal bancone di un bar, cliente ladro identificato e denunciato grazie alle telecamere. Sentiamo Michele Iurlaro. Al bancone per bere un drink ha approfittato di un attimo di distrazione dei baristi per trafugare uno smartphone, poi come se nulla fosse ha guadagnato l'uscita facendo finta di essere impegnato in una conversazione. Ad incastrare un 56enne originario di Oria ma residente al nord Italia sono state le telecamere di videosorveglianza di un bar del centro storico dove si sono verificati i fatti. Il signore che indossava un vistoso giubbotto giallo con un rapido gesto ha allungato la mano e senza essere visto ha sgraffignato lo smartphone, quindi si è alzato dallo sgabbello, ha finto di essere impegnato al telefono e ha guadagnato l'uscita. L'avrebbe fatta Franca il 56enne, eppure come nel più classico dei romanzi gialli il colpevole è tornato sul luogo del delitto il giorno dopo quando messo di fronte all'evidenza ha persino avuto da ridire sull'accusa mossa fino a quando sul posto non sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno denunciato il presunto ladro, accusato ora di furto aggravato. Il telefonino dopo gli accertamenti di rito è stato ritrovato e riconsegnato al suo proprietario. Cambiamo argomento, si è tenuto un vertice in prefettura Brindisi per il controllo del territorio con servizi mirati e intensificati, affrontato anche il nodo trasporto collegato con la probabile ripresa delle attività scolastiche dopo le festività natalizie. Vediamo il servizio. Si è tenuto ieri il comitato provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Carolina Bellantoni con la partecipazione dei vertici delle fosse dell'ordine dei sindaci dei comuni della provincia nonché della società di trasporto pubblico locale per fare il punto della situazione sulle misure da attuare in occasione delle prossime festività natalizie. Il prefetto ha richiamato l'attenzione sulle esigenze di disporre un'ulteriore intensificazione dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio. Il prefetto ha invitato i sindaci a concorrere per il tramite delle polizie locali nel potenziamento dei servizi di controllo del territorio. Nel corso della riunione il prefetto ha poi richiamato l'attenzione sul nodo trasporti e scuola in vista della probabile ripresa delle elezioni a partire dal 7 gennaio. Il prefetto ha richiamato fortemente l'attenzione sulla necessità di predisporre allorché verrà riavviata l'attività scolastica di servizi mirati nei pressi degli istituti scolastici che delle fermate degli autobus, al fine di evitare fenomeni di assembramenti da parte degli studenti. Una protesta davvero singolare. Restano in mutande i ristoratori di Brindisi che presentano un calendario particolarmente ironico e provocatorio allo stesso tempo. Vediamolo. Il settore della ristorazione a livello locale e nazionale è in mutande e da Brindisi l'associazione Pani e Pesci lo ha voluto rendere visibile con un calendario 2021 all'interno del quale gli stessi membri del sodalizio imprenditoriale hanno posato rigorosamente in intimo per lanciare un messaggio tangibile, simbolo del complicato momento causato dall'emergenza sanitaria. È un calendario di provocazione che fa parlare di noi e abbiamo deciso di farlo in questa maniera perché è una manifestazione pacifica la nostra. Anche se è un calendario artisticamente valido, noi lo vendiamo, i soldi andranno all'associazione per sostenere le attività che sono rimaste più indietro. Abbiamo tantissime aziende che stanno chiudendo nel nostro territorio e non solo. Nel 2020 tante non ce l'hanno fatta e nel 2021 la prospettiva non è delle più rose. Allora stiamo cercando di raccogliere dei fondi per aiutare e sostenere le attività, le aziende che sono rimaste più indietro e che non ce la potrebbero fare altrimenti. Benvenga che i ristoratori abbiano inteso con questa iniziativa a mettere in risalto le loro difficoltà e che lo abbiano fatto in un modo davvero così simpatico perché io credo che solamente col sorriso si possa riflettere meglio su quanta difficoltà ad oggi il sistema di ristorazione, ma non solo ha trovato in questo anno che per fortuna sta passando. E adesso le notizie brevi di Brindisi e Provincia. Nuova sfiammata notturna della torcia nello stabilimento Universalis di Brindisi. Nella mattinata di lunedì i tecnici dell'ARPA si sono recati sul posto per verificare la portata delle emissioni e le origini della fiammata. Dopo la positività del comandante Teodoro Nigro sono stati nuovamente sottoposti a sanificazione gli uffici, i veicoli di servizio, gli spogliatoi e il magazzino della polizia locale di Mesagne. I titolari di quattro esercizi pubblici sono stati multati dalla polizia locale a San Pancrazio per violazione delle norme anti-Covid. All'interno e all'esterno dei bar sono stati accertati pericolosi assembramenti. Per sostenere i commercianti che non hanno lavorato durante il lockdown, il comune di San Michele Salentino stanzierà un bonus di liquidità di 600 euro che potrà essere speso per qualsiasi esigenza. Nei giorni 24 e 31 dicembre il mercato settimanale a Sant'Elia si svolgerà secondo le regole della zona rossa e dunque sarà consentita la vendita esclusivamente di generi alimentari, prodotti florovivaistici e agricoli. Stefano Casuar è il nuovo presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Brindisi. Il nuovo consiglio direttivo è composto da Stefano Baldassarre, Federica Caroli, Cosimo De Donno e Alessio Greco. Ed ora ci spostiamo a Francavilla Fontana dove è partita la distribuzione dei pacchi alimentari. Un gesto di solidarietà grazie al comune della città dell'Imperiali ma anche alla Croce Rossa e alla protezione civile. Vediamo il servizio di Michele Iurlaro. Pasta, riso, salsa e pelati e poi olio, acqua, succhi di frutta. Nel pacco insomma c'è un po' di tutto ed è un pacco pieno di speranza e solidarietà. Quello che il comune di Francavilla Fontana mette a disposizione di famiglie e cittadini in vista del Natale può essere ritirato nella sede della Croce Rossa di Via Zulino per chi ne avesse necessità consegnato a domicilio dai volontari con procedure semplici, snelle, veloci. Sì, stiamo cercando di mettere a disposizione delle famiglie in questo momento particolare, pandemico ma anche di forte crisi economica, tutti gli strumenti per aiutare le famiglie bisognose. Il comune ha predisposto con risorse di bilancio 20.000 euro per acquistare le derrate alimentari che saranno distribuite dalla protezione civile e dalla Croce Rossa attraverso un numero verde. Ci sarà una distribuzione a domicilio per le persone non autosufficienti e per coloro che sono stati colpiti dal Covid, mentre chi è in stato di bisogno potrà venire direttamente qui alla Croce Rossa per ritirare il pacco alimentare attraverso la sottoscrizione di un'autocertificazione dello stato di bisogno. Beni di prima necessità per un piccolo gesto carico di speranza, gentilezza, voglia di aiutare, voglia di solidarietà, voglia di Natale. Adesso una nota ufficiale della ASL di Brindisi che riguarda le vaccinazioni da medici e pediatri di base dopo l'apertura straordinaria degli ambulatori ASL della provincia di Brindisi nello scorso fine settimana, la vaccinazione antinfluenzale prosegue dai medici e pediatri di famiglia fino al 31 gennaio 2021. Il segretario regionale della Federazione dei Medici di Famiglia Donato Monopoli sottolinea che seppure c'è ancora tempo per vaccinarsi, è consigliabile farlo al più presto, gli assistiti possono contattare i medici per concordare, gli appuntamenti ci sono scorte sufficienti per chiunque ne faccia richiesta. Ricordiamoci, scrive la ASL, che l'influenza fa morti così come il Covid ed è fondamentale che soprattutto le persone anziane e quelle ad alto rischio si proteggano con il vaccino. Un appello dunque alla vaccinazione arriva anche dal segretario provinciale della Federazione Medici Pediatri, Francesco Gianfredi, che invita tutti i genitori a vaccinare i propri figli contro l'influenza rivolgendosi ai pediatri di famiglia. È noto come i bambini siano uno dei veicoli più importanti di trasmissione dell'influenza verso gli adulti. Controllo del territorio da parte della Guardia di Finanza di Brindisi, che è pronta a dare il suo contributo alla sicurezza anche in questi giorni dedicati alle festività natalizie. Sentiamo Davide Cucinelli. La pandemia non ferma l'efficienza e l'operatività della Guardia di Finanza, che ha vissuto in prima linea questa fase di emergenza sanitaria, sia sotto l'aspetto lavorativo, dovendo affrontare delle sfide sicuramente diverse di controllo in questo particolare 2020, ma anche sotto l'aspetto umano, con la malattia, che non ha risparmiato neanche gli agenti della Guardia di Finanza Brindisi e le loro famiglie, pronti comunque a dare il proprio contributo di sicurezza anche in questi giorni dedicati alle festività natalizie. Queste saranno delle festività diverse rispetto a quelle degli anni passati. Diverse perché è stato un 2020 particolare, un anno difficile a causa dell'emergenza sanitaria. Ieri c'è stata una riunione in prefettura, coordinata da Sua Eccellenza il prefetto di Brindisi, sono state definite i servizi che verranno eseguiti durante tutto il periodo delle festività, con il coordinamento della Questura. Comunque la collettività Brindisina, in tutto il 2020, ha risposto in maniera puntuale a tutte le disposizioni e tutte le norme che sono state emanate dall'autorità centrale. Vi ringrazio anche per questa intervista perché appunto mi date la possibilità di stringermi idealmente a tutti i miei finanzieri che sono stati colpiti direttamente o indirettamente dal virus. E devo comunque ringraziarli perché per tutto il 2020, nonostante le difficoltà, siamo riusciti a garantire la piena efficienza e la piena operatività di tutti i reparti della provincia. L'associazione Codici chiede il sequestro dei beni di Euromedia Shop, la società Brindisina guidata da Cristian Ciciriello e il 25enne indagato per truffa. Con un indagatore o confesso pronto ad ammettere le sue colpe sia davanti ai finanzieri che alle telecamere, il caso Euromedia Shop continua a fornire sviluppi. L'associazione per i diritti del cittadino Codici ha richiesto nei giorni scorsi il sequestro dei beni per il titolare del sito, ovvero il 25enne di Brindisi, Cristian Ciciriello, indagato per truffa, pronto a chiedere scuse e ad ammettere di aver incassato il denaro di chi, davanti all'offerta Salva Natale, aveva sperato di ritrovarsi una PlayStation 5 sotto l'albero. E invece niente PlayStation 5 e niente soldi già spariti. Prendiamo atto delle scuse, dice il segretario di Codici Ivano Giacomelli, ma è chiaro che non possono bastare per chiudere la vicenda. Da qui la richiesta. In attesa che le indagini facciano il loro corso, chiediamo il sequestro dei beni, sia del titolare che della società, ed annunciamo che ci costituiremo parte civile nel futuro processo. Un'ultima notizia, l'apertura dei cimiteri durante le festività natalizie. C'è una nota ufficiale della comune di Brindisi dal 24 al 27 dicembre, dalle 7 alle 13, parliamo ovviamente del periodo della zona rossa, poi sempre dalle 7 alle 13, il 31 dicembre, dal 31 dicembre fino al 3 gennaio, così come anche mercoledì 6 gennaio. Cimitero di Brindisi aperto dalle 7 alle 13, nei giorni feriali. Gli orari restano invariati. Chiudiamo così questa edizione dedicata a Brindisi e provincia, tra pochissimo le news dal Salento. Incontro in Prefettura Lecce alla presenza del Ministro Teresa Bellanova per firmare il protocollo etico di lotta allo spreco. Il giorno più basso in Salento per contagi da Covid, ma a Lecce si chiude una scuola. Un cavallo e un camion sono finiti in mare in due distinti episodi accaduti nello stesso giorno a Castro e a Gallipoli. A tre mesi dal duplice omicidio di Via Montello, la Procura di Lecce presenta la richiesta di giudizio immediato per Antonio De Marco. Sentite. A tre mesi dal duplice omicidio nella palazzina di Via Montello, la Procura di Lecce ha formulato la richiesta del giudizio immediato per Antonio De Marco, il 21enne reo confesso dell'assassino del giovane arbitro Daniele De Santis e della sua fidanzata Leonora Manta. Il giovane infermiere di Casarano dal 28 settembre è rinchiuso nel carcere di Borgo San Nicola e accusato di duplice omicidio gravato da premeditazione e crudeltà, oltre che di porto abusivo di arma bianca. Il pullo dei magistrati della Procura di Lecce hanno deciso di presentare l'istanza al GIP per la celebrazione diretta del processo. Per il PM l'udienza preliminare è di fatto superata sulla base delle prove raccolte a carico del giovane, che ha confessato di aver compiuto il duplice omicidio la sera del 21 settembre scorso nell'abitazione della giovane coppia. Ora sarà lo stesso giudice per le indagini preliminari a doversi esprimere formalmente sulla richiesta. Si attende ora da parte del collegio difensivo del giovane il deposito delle richieste formali per un incidente probatorio, per valutare la capacità di intendere e di volere tramite apposita perizia psichiatrica. Nel Salento quello di ieri è stato il giorno più basso per contagi da Covid, ma a Lecce è stata chiusa una scuola. Sentiamo Giuseppe Andriani. È stato lunedì che sul fronte Covid ha visto i casi scendere in modo significativo in provincia di Lecce. Solo 33 in 24 ore, mai un dato così basso a dicembre. Una tendenza che conferma quella dell'ultimo report settimanale che ha visto oltre 200 contagiati in meno nel Salento a distanza di 7 giorni e 5 paesi senza positivi al Covid-19. Eppure in città preoccupa il caso di una scuola media, la Quinto Egno, dove un professore è risultato positivo al tampone qualche ora fa. Vacanze di Natale in anticipo quindi, almeno per le elezioni in presenza delle sue classi, perché per i prossimi due giorni, in attesa che vengano sacrificati i locali dell'istituto, gli alunni delle classi del prof in questione seguiranno esclusivamente con la didattica a distanza e sono stati posti dalla ASL in quarantena. Il Salento prova a resistere, in attesa delle festività natalizie, mentre a Lecce continuano i controlli delle forze dell'ordine per evitare assembramenti negli ultimi giorni utili per i regali. Restiamo in qualche modo in argomento, parliamo dell'evoluzione, la nuova evoluzione del Covid-19. In Puglia oltre 1200 viaggiatori rientrati da paesi a rischio e tra loro anche tanti salentini, come ci spiega Maria Teresa Carrozzo. Sarebbero almeno 12 le varianti del SARS-CoV-2 individuate dagli scienziati. Quella che fa più paura è in Inghilterra, perché sembra che sia più contagiosa. L'OMS chiede di rafforzare i controlli perché sono già stati individuati due positivi in Italia con la variante più contagiosa del virus e tutti i voli sono stati preventivamente sospesi. Le varianti avvengono per l'adattamento del virus all'ospite. Siamo stati spiazzati dalle dichiarazioni del Ministro della Sanità anglosassone che ha affermato che la nuova variante sarebbe fuori controllo. Ha una trasmissione del 70% in più rispetto al virus che conosciamo. Il nuovo sceppo SARS-CoV-2 si chiama VUI 2020 ed è stato individuato per la prima volta a settembre a Londra. Presenta alcune mutazioni, tra cui la principale a livello della proteina Spike che il virus utilizza per legarsi alle cellule umane tramite il recettore ACE2. Ma è ancora presto e non esiste alcun elemento scientifico per credere che questa variante possa resistere al vaccino. Tutto è ancora da verificare. Intanto sarebbero 1.215 passeggeri che negli ultimi 14 giorni sono arrivati in Puglia con voli diretti dalla Gran Bretagna e che, secondo le disposizioni nazionali, devono comunicare il loro ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione della ASL e sottoporsi immediatamente a tampone. Lo comunica l'assessore alla sanità Pierluigi Lopalco. Tra i passeggeri ci sarebbero inoltre numerosi residenti nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto. Siamo adesso alla cronaca. Pensate, un cavallo e un camion sono finiti in mare ma in due distinti episodi accaduti a Castro e a Gallipoli. Come ci racconta Paolo Franza. Un cavallo dopo aver perso l'orientamento in preda al terrore dal bagnasciuga è finito in acqua nuotando verso il largo seguito dalle bracciate del proprietario nel tentativo di riprenderlo. È accaduto a Castro davanti agli occhi di alcuni pastanti che dal lungomare hanno assistito alla scena. Il proprietario probabilmente non era in sella perché sembra che si sia tuffato subito dopo nel disperato tentativo di riprenderlo. L'animale è scivolato a causa delle alghe viscide finendo in mare. Alcuni abili nuotatori si sono tuffati e sono riusciti a sospingerlo verso la riva evitando che il cavallo annegasse. La disavventura alla fine si è conclusa a lieto fine. A Gallipoli invece nei pressi della panchina del porticciolo un motocarro utilizzato per la raccolta manuale dei rifiuti ha terminato la sua corsa in mare e finendo quasi totalmente a fondo. Un fatto accidentale è avvenuto quando l'operatore ecologico impegnato nella raccolta dei rifiuti è sceso dal mezzo dopo aver inserito il freno a mano ma a quanto pare già in altre occasioni il freno di stazionamento aveva dato dei problemi ad inserirsi. Complice anche una leggera pendenza dell'astricato ha cominciato a muoversi scivolando giù dalla banchina. Con l'aiuto anche di alcuni sub si è provveduto ad agganciarlo ad una gru di un mezzo meccanico e successivamente recuperato. Si è tenuto in prefettura Lecce un incontro alla presenza del ministro Teresa Bellanova per firmare il protocollo etico che intende fare lotta allo spreco. Un incontro presso la sede della prefettura di Lecce alla presenza di Teresa Bellanova ministro delle politiche agricole, alimentari e forestari per sancire un importante traguardo nella lotta allo spreco con la sottoscrizione del codice etico dei soggetti attuatori del recupero e riutilizzo delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e degli altri beni ai fini di solidarietà sociale e dei componenti la rete sociale. Disciplinare per la costituzione e il funzionamento della rete solidaria dei soggetti socialmente responsabili nella lotta allo spreco. Questo il fine del codice etico. Il documento è stato promosso dalla prefettura del capoluogo, dalla regione Puglia dalla provincia di Lecce, dal comune di Lecce e dalla Camera di Commercio con l'adesione dell'ASD, dell'Università del Salento e della USB, della comunità Emanuel ma è prevista la più ampia condivisione della grande distribuzione della società civile per dare risposte vere alle necessità del territorio. Tra gli aspetti salienti del documento come evidenziato anche dal ministro Bellanova si segnala l'obiettivo di valorizzare l'impegno di tutti gli aderenti e in particolare dei soggetti attivi e operanti nei settori economici interessati attraverso l'attribuzione del marchio etico nonché di garantire la trasparenza e la tracciabilità di tutte le fasi e l'identificazione di tutti gli operatori coinvolti nel processo distributivo. L'attribuzione del marchio che sarà disciplinata da un regolamento è stata affidata alla Camera di Commercio che cura la verifica del possesso dei requisiti. E adesso le notizie flash dal Salento. Altro sbarco in pochi giorni nel Salento nel corso della notte in un clima freddo tagliente a causa dei venti sono approdati sulle coste salentine 26 migranti soccorsi a largo del capo di Leuca e dai mezzi della guardia di finanza mentre traversavano le acque a bordo di un neveliero. Condotti in porto a Santa Mella di Leuca i migranti sono stati fatti scendere per poi essere rifocillati e soccorsi dai volontari della Croce Rossa Italiana di Lecce. Nelle prossime ore verranno consegnati i 600 pacchi di cibo oltre 20.000 chili con pasta, salumi e legumi alle aree terremotate di Lazio Marche, Abruzzo e Umbria insieme a questi olio, exaverge d'oliva denominazione di origine prodetta pecorino dei pastori sardi e altri generi alimentari made in idri alle famiglie bisognose sul territorio regionale e quello leccese. E questa è l'iniziativa portata avanti dagli agricoltori di Campagna Amica nell'ambito dell'iniziativa Spesa Sospesa. L'associazione Cuori e Mani Aperti in collaborazione con il 61esimo Storm e il decimo reparto in manutenzione velivoli dell'aeroporto militare di Galatina hanno donato un ecografo portatile con sonda ultrasonografica al reparto di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero del Vito Sfazzi e 7 plus orimetri per l'ASL per il 118 un'iniziativa importante che aiuta la lotta contro le malattie nel nostro comio salentino. E' stato presentato dalla provincia di Lecce il progetto per finanziare il recupero di alcune infrastrutture di enorme valore storico oltre che strade e istituti scolastici. La provincia di Lecce risponde alla richiesta del sottosegretario Mario Turco di presentare un piano di investimenti che punti ad uno sviluppo sostenibile del territorio e lo fa presentando progettualità per 281 milioni di euro. Nel dettaglio l'articolato programma presentato dal Consiglio dei Ministri si compone in quattro macro aree di intervento potenziamento di infrastrutture viabili recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente politiche di promozione del brand Salento e oramai la nota svolta green lanciata dal presidente Minerva. Con riferimento al primo asset gli investimenti l'ente di Palazzo dei Celestini ha scelto di puntare sul completamento delle opere protettive la sistemazione di intersezioni e i piani viabili per circa 108 milioni di euro. Circa 90 milioni di euro invece per il recupero e la rifunzionalizzazione e la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare scolastico e non del territorio con focus di immobili di immenso prestigio storico e culturale fra cui ad esempio Palazzo Celestini e Palazzo Adormo Caserma Cima Russi il convento dei Francescani riformati di Gallipoli e Palazzo Comi a Lucugniano di Tricasa. Nel sottogruppo infrastrutturale poi anche investimenti su edifici scolastici come quelli di Campi Salentino Taurisano e Racale per 3 milioni di euro e sportivi come quelli che interesserebbero anche il palazzetto dello Sport in Lecce di Via Merina per un investimento di circa un milione e mezzo di euro. Rocco Caliandro Fabio Pignatelli e Sebastiano Bufalo hanno curato la parte tecnica chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale se vorrete tra poco il nostro notiziario sportivo grazie arrivederci grazie a tutti gente Grazie a tutti.